Buongiorno a tutti membri della Galassia del Nord, qui oggi sul canale Radio Kaio discuteremo di The Seven Deadly Sins o Nanatsu no Taizai, manga di Nakaba Suzuki ma che ha anche un adattamento anime che ha una storia un po' particolare. Io mi toglierei dunque subito questo piccolo sassolino dalla scarpa ovvero l'anime? Posso recuperare The Seven Deadly Sins guardandomi solamente l'anime? Secondo me se vuoi capire se la storia potrebbe piacerti allora sì, però uomo avvisato mezzo salvato le ultime stagioni sono veramente un downgrade di qualunque cosa. Quando succede di preciso ciò? Quando il progetto passa da studio A1 Pictures a studio Dean, aiutato dallo studio Marvy Jack. Ebbene questo passaggio di studio comporta un peggioramento riguardo la qualità grafica, ciò accade dopo la fine della stagione 2. I motivi? Beh allora fra la stagione 2 e la stagione 3 c'è stato un film chiamato Il Prigioniero del Cielo che è andato una merda al box office. Detta in soldoni, Aniplex, parte del comitato di produzione, ha visto che il film è andato male e di conseguenza ha perso fiducia nel progetto togliendo appunto il proprio investimento su di esso. La parte rimanente del comitato di produzione ha dato in mano il progetto a studio Dean, ovviamente affiancato da Marvy Jack come detto in precedenza. Affinché spremesse il franchise di The Seven Deadly Sins fino all'ultima goccia. Ora è vero che la qualità cala in modo veramente drastico, però io onestamente mi sono recuperato tutto l'anime e sono riuscito a vedermelo comunque. Non è che ho dovuto smettere perché oh mio dio che schifo. Ho goduto dove c'era da godere e poi mi sono recuperato il manga. Quindi tolto questo piccolo sassolino possiamo parlare del lavoro di Nakawa Suzuki. Cos'è fondamentalmente Nanatsu no Taizai? È un manga fantasy creato prendendo diversi elementi molto particolari e combinandoli tra loro per costruire una storia. Ad esempio prende come base alcuni shonen di combattimento che sono stati creati in passato come ad esempio Dragon Ball. Dragon Ball di Akira Toriyama è evidentissima come ispirazione. Io ci ho visto anche un po' di Fairy Tale di Hiro Mashima, le storie del ciclo bretone nonché quelle riguardanti ad esempio Re Artù, Mago Merlino eccetera che tutti quanti probabilmente avremo sentito almeno una volta nella vita. Verrà aggiunto tutto questo anche qualche elemento religioso come ad esempio i Sette Peccati Capitali o i Dieci Comandamenti. Il tutto riadattato in un fantasy moderno. I disegni sono puliti, purtroppo non sono sempre perfetti perché ovviamente questo con i tempi di pubblicazione non è che fosse un manga che avesse comunque molto tempo per curare al minimo ogni dettaglio. Secondo me si esprimono al meglio all'interno dei combattimenti che riescono a gasare i lettori e soprattutto nel modo in cui vengono raccontati veramente fighissimo, sparando, urlando, tecniche incredibili. Cioè senti proprio il gaso puro del battle. I temi trattati nella storia sono dei più classici. Si parla di amicizia, di amore, di destino, dell'accettazione di se stesso, di migliorare se stessi, conflitti familiari eccetera eccetera, insomma classiche cose. Ovviamente trattandosi di un battle manga si tratteranno determinati temi in determinati modi. Poi essendo anche per ragazzi ci sarà un tipo di comunicazione che vada a funzionare maggiormente per questi. I personaggi sono tutti molto particolari, devo dire che su molti ho cambiato idea con una rilettura perché onestamente magari a primo a Kitto non mi erano piaciuti granché, ma poi comunque vedendoli al meglio, anche con una consapevolezza del loro sviluppo futuro, secondo me riescono a rendere ancora meglio. In generale i miei personaggi preferiti rimangono soprattutto i cavalieri sacri, come possono essere Guild Thunder, Jericho o Hauser. Peccato che da un certo punto della storia in poi questi diventino dei personaggi di mero contorno, per lasciare spazio a quelli che sono i veri protagonisti, ovvero i sette peccati capitali. Sicuramente anche tutti i peccati capitali sono interessantissimi a modo loro, in particolare mi sono sempre piaciuti Ban e Escanor perché li ho trovati diciamo i più curiosi, anche se ultimamente sto rivalutando parecchio Goder. Mi piace anche il fatto che ogni peccato capitale non è che abbia il proprio peccato come base della propria caratterizzazione, ma semplicemente questo è un evento nella loro vita che serve un po' a spiegare chi sono diventati. Penso che questo manga sia bello, la lettura ovviamente è consigliata a tutti quelli che apprezzano il fantasy, ma che soprattutto apprezzano le botte perché in questo manga ce ne saranno. Tra l'altro questa è una storia che combina diversi elementi che normalmente all'interno dei battle manga non riusciamo a trovare con tanta facilità. Per farvi un esempio si riesce a combinare benissimo il tema dell'amore con tutto il resto. C'è uno sviluppo graduale e non alla fine della storia come succede in tantissimi altri manga. Vi consiglio dunque di provare a leggerlo, a me ha colpito fin da subito, ma in caso guardatevi magari qualche episodio dell'anime, tanto c'è su Netflix. Com'è la narrazione però? Beh, dividerò questo punto in quattro parti e ci saranno spoiler abbastanza pesanti. Quindi se non volete spoiler, in descrizione o comunque vedete che ci sono tutti i capitoli, schippate. La prima parte, quella riguardo i cavalieri sacri, è una delle mie preferite. È certamente ben narrata, ci sono appunto tutti quegli elementi che ti possono far apprezzare l'esordio di una nuova storia fantasy. Ci viene presentato un modo veramente fantastico, essendo che il fantasy in questo mondo che è stato creato è veramente preponderante, creando diversi ambienti con diverse particolarità. Mi sono piaciute molto le dinamiche tra Meliodas e Giltander. Anche Ban e King hanno comunque delle dinamiche molto molto interessanti, legate soprattutto dalla figura di Elaine, che per uno è l'amante e per l'altro è la sorella. O anche quelle che si creano nel gruppo del Boaret, che comunque sia risulta ancora incompleto in questa parte della storia. La seconda parte riguardante i Dieci Comandamenti è secondo me veramente stupenda. Il primo confronto con Galland mi ha fatto venire veramente i brividi. Quello era probabilmente il primo nemico che il gruppo si trovava di fronte e che non riusciva a fronteggiare. Tant'è che hanno avuto bisogno di allenarsi, di aumentare il proprio potere per poter contrastare la minaccia. Anche le parti dopo gasano parecchio quando soprattutto si esplora un pochettino il personaggio di Meliodas, il protagonista della storia. O quando viene introdotto il personaggio di Escanor, ovvero l'ultimo dei peccati capitali ancora mancante all'appello. Molto bella la parte di Ban, Zivago e Gerico, veramente me la porterò nel cuore. Poi la parte di Escanor contro Estarosa è veramente veramente figa da leggere. Anche da guardare nell'anime perché è una delle ultime parti animate veramente bene. Passiamo poi alla terza parte dove secondo me si percepiscono i primi scricchioli a livello di trama. Vediamo fondamentalmente la guerra santa, questo evento molto importante all'interno della storia già appunto nelle saghe precedenti. La storia inizia ad entrare nel vivo e alcune storyline vengono portate finalmente ad ottenere quella aspettatissima spiegazione. Scopriamo tantissime cose su tantissimi personaggi, ad esempio come il personaggio di Goddard che secondo me all'inizio non riusciva a dare granché, mentre quando viene scoperta appunto un po' la sua storia ecco che diventa un personaggio veramente di livello. Prima mi stava veramente sui coglioni. Ci sono però secondo me due punti negativi abbastanza evidenti all'interno di questa parte della storia. La prima è che la narrazione diventa abbastanza scontata e anche prolissa, mentre la seconda è che purtroppo alcuni personaggi che prima erano abbastanza importanti vengono tralasciati come dissi in precedenza. Questo perché si è cominciato ad esagerare con i livelli di forza e quando esageri con i livelli di forza solamente i più forti hanno veramente uno spazio all'interno della storia. Inizia a sentirsi un odore particolare ovvero quello del brodo allungato che attenzione attenzione tutta la serie è un brodo allungato in sé però comunque è un brodo allungato che non ti viene fatto pesare, che non ti viene fatto notare. Però attenzione tutti i manga sono brodo allungato di continuo però talvolta viene mascherato e di conseguenza non viene notato. Ma l'ultima, l'ultima parte, la quarta, quella appunto riguardante il caos, col seno di poi è servita ad introdurre il sequel ufficiale della storia ovvero Four Knights of Apocalypse, i quattro cavalieri dell'apocalisse che riprende un po' quello che è il pattern dei sette peccati capitali e dei dieci comandamenti. Ecco il tutto in quest'ultima parte di storia viene visto veramente velocemente. Ecco l'ultima parte di The Seven Deadly Sins è bella ma questo si nota veramente tanto e quindi insomma me la fa un po' abbassare. Non è senz'altro a livello delle precedenti. Fra l'altro qualcuno magari si chiederà ma i quattro cavalieri dell'apocalisse me lo devo leggere? Che consigli? Secondo me sì perché appunto nel sequel ufficiale ci sono anche i personaggi di The Seven Deadly Sins al suo interno e che dire, i personaggi continuano le loro storyline introducendosi in quelle dei nuovi protagonisti e secondo me è molto molto interessante questa cosa e soprattutto l'autore è lo stesso della precedente opera. Di conseguenza si vede che comunque sono sue idee, i disegni sono i suoi quindi secondo me ci sta un botto leggerlo. Per farla breve The Seven Deadly Sins è purtroppo un manga che sul finale secondo me cala un pochettino ma per tutta la storia mantiene veramente una certa dignità, una dignità che consente alla persona che lo legge di gasarsi di continuo. Una dignità che continua anche con il sequel. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, magari fatemi sapere la vostra nei commenti, noi ci rivecchiamo alla prossima, ciao a tutti.